Adesso la parola a Fra Mauro Ieri, già Ministro Generale dell'Ordine dei Cappuccini perché tutto questo iter di cui oggi festeggiamo il risultato partiva quando era Ministro Generale. A lei la parola. Allora io mi rallegro molto di questa proclamazione e la vedo anche in una continuità storica. Fra qualche anno celebreremo i 500 anni della nascita dei Cappuccini e i Cappuccini nacquero in tempi in cui la peste falciava in fondo tanti morti e i Cappuccini che nacquero per stare negli Eremi scendevano nei Lazzaretti e si occupavano degli appestati. Il Manzoni ne ha scritto una bella pagina. Ma questo non si limita all'Italia, è avvenuto in Spagna, è avvenuto in Germania. Cioè la cura degli appestati, lo star vicino all'ammalato morente è stata una delle caratteristiche del nostro ordine. E vedere che oggi un nostro frate santo continua, come dire, anche nella sua nuova esistenza nella dimora celeste ad essere attento ai bisogni dei malati tumorali, mi sembra una cosa molto bella e come vi dicevo in continuità. Quando mi venne richiesto di scrivere al Cardinal Bassetti, di fargli notare che si stava raccogliendo delle firme e sono state raccolte parecchie, lo dirà poi dopo Padre Favliano, Noi abbiamo fatto un po' da tramite perché la conferenza episcopale del Triveneto aveva già fatto tutto un lavoro che è giunto a noi e poi è stata la curia generale doversi rivolgere alla CEI perché l'iter proseguisse. Ma questo è avvenuto in un momento storico, penso, di rara bellezza, quando nel febbraio del 2016, nell'anno della riconciliazione, l'anno della misericordia, Papa Francesco volle che si portassero a Roma le salme reliquie di San Padre Pio e di San Leopoldo. Ed io ricordo la prima sera quando le salme arrivarono a San Lorenzo fuori le mura fu un momento strepitoso perché chiusero le chiese al mattino alle due o che tanta c'era la folla e poi quando abbiamo portato le due salme lungo la via della riconciliazione in Vaticano e le campane suonavano a festa, in particolare per Padre Pio diceva un po' il suo, il trionfo, lui che ha avuto diverse difficoltà col Vaticano, ma che questi due nostri semplici frati che praticamente hanno trasformato uno spazio minuscolo, tutti quelli che conoscono la cella dove Padre Leopoldo confessava, veramente, hanno avuto la capacità di uscire dal ruolo, come dire, della vittima per trasformare uno spazio in uno spazio di grazia, in uno spazio di incontro, io direi anche uno spazio di profondissima umanità, cioè la capacità di accogliere, la capacità di ascoltare, di accompagnare e come dire di farsi veramente così tramite, no? verso la realtà della misericordia e della bontà di Dio. Quella fu un'esperienza grande e bella e mi convinse di una cosa, la santità parla ancora, cioè la santità ha, come dire, ha una forza, ha un'evidenza, ha uno splendore che attira, di fatti noi abbiamo visto così tanta gente, non sembrava vero che si avvicinava a queste salme, che le pregava, che si sono rallegrati con noi. Quindi questo è stato un motivo per me per rispondere immediatamente alla richiesta che mi era venuta da Padre Flaviano per far avanzare le cose. Io sono riuscito a farle avanzare fino a metà del 2018, poi c'è stato il cambio, poi dopo di me è stato eletto come ministro generale padre Roberto Genuino, un veneto, io ho detto generalmente dopo uno svizzero è un veneto che fa il generale del nostro ordine, almeno la seconda volta che capita. E lui ha proseguito il lavoro e oggi siamo qui a raccogliere il frutto, e penso è un frutto molto bello soprattutto per l'aiuto, per il sostegno, per il coraggio e per la speranza e l'orizzonte che questo apre accanto a tutto lo sforzo umano, scientifico, per essere vicino all'ammalato, che ci sia ancora questo spiraglio ancora più grande che ci vede tutti a guardare nella stessa direzione. Sono molto grato di questo e mi rallegro non solo per l'Italia, perché tutti i devoti di padre Leopoldo, io penso particolarmente ai miei confratelli in Croazia, in Slovenia, dove la salma di padre Leopoldo è stata portata ed è stato un fatto trionfale, come vi dico la santità parla ancora, quindi spero che questo momento, questo fatto, questa proclamazione sia uno spiraglio di luce per tanta gente. Vi ringrazio.